Ehi, Piero! Che succede? Ehi, stai tutto oggi da... Sì, sto correndo. Mia suocera... La suocera? Ha mangiato mezzo chilo di cozze. Ma? Sta quasi per morire. Ah, stai andando di costa, dottore? No, sto andando a comprare l'altro mezzo chilo di cozze, prima che hai chiuso la pescheria. Non mi sia la volta buona, capito? Ehi, Pepe, già che stai compri un chilo anche per me. Vabbè, Piero, fammi andare. Che devi fare sconchere la mia morte. A tua morte, a tua morte. Ciao, Piero, fammi coca. Anzi, fai due chili, che andiamo su sicuro. Che poi te ne pago. Sì, come lo andavo? Vabbè, ciao, Pepe. Vabbè. Vabbè.